Musica Io ovviamente, dopo aver ascoltato Zamagni, non si può far altro che accennare molto rapidamente ad una cornice dell'economia civile che è quella della felicità, è stata citata più volte volevo partire da questa idea della felicità perché secondo me ci aiuta a inquadrarla bene questi sono Antonio Genovesi, autobiografia, lettere e altri scritti, metà del Settecento a me interessa la seconda parte di questa frase che potete leggere quanto più si opera per interesse, tanto più, purché non si sia pazzi, si debba essere virtuosi è legge dell'universo che non si può fare la nostra felicità senza fare quella degli altri e non è questo un concetto legato alla beneficenza, è legato alla generazione di valore, di felicità la seconda invece definizione che secondo me aiuta anche noi in questo confronto è quello di non essere così, avere la presunzione di avere una nuova teoria economica definita l'economia civile, lo scrivono bene Luigino Bruni e Stefano Zamagni nel libro dell'economia civile che trovate anche qui, è un processo inclusivo biodiversificato non è un nome diverso per l'economia del no profit o del terzo settore che è il mondo da cui provengo perché come abbiamo capito tutti quanti insieme si rivolge a tutta l'economia che guarda e giudica civile o incivile nella giornata di ieri abbiamo ascoltato chi c'era, se no ve la riassumo in una battuta la testimonianza di Vincenzo Linarello, presidente di Goel, gruppo cooperativo Locride, Calabria, antimafia sociale che crea lavoro spiegare con molta chiarezza che cos'è l'economia incivile l'economia mafiosa è economia incivile e che cos'è l'economia civile che quelle realtà in quei territori così difficili riescono a praticare io mi soffermerò soltanto sulle opportunità concrete, con numeri andrò molto veloce, legate ad alcune filiere da cui poi vedrete si generano green jobs e green skill e c'è domanda di competenze ambientali la prima di questa filiera ha a che fare con il manifatturiero perché l'economia circolare, anche questa è una questione che forse dovremmo affrontare con un po' più di condivisione e di consapevolezza l'economia circolare non è l'economia dei rifiuti è un pezzo del ragionamento l'economia circolare ha a che fare con tutta la filiera del manifatturiero della produzione di beni nel nostro paese industria, quella manifatturiera italiana che sta conoscendo peraltro una stagione di grande crescita, di grande sviluppo e di grande innovazione proprio sulle filiere del riciclo questi sono numeri che hanno a che fare con l'impatto atteso dalle nuove direttive approvate dall'Unione Europea in materia di economia circolare crescita del PIL stimata che noi dobbiamo recepire che sono ormai state approvate definitivamente in Europa 7% di crescita del PIL 600 miliardi di euro di risparmi annuali stimati dalla Commissione Europea per il mondo imprenditoriale 580 mila nuovi posti di lavoro poi ci arriveremo 2,4% di taglio delle emissioni di gas serra che è uno degli obiettivi che dobbiamo raggiungere risparmiare risorse creando lavoro c'è poi un dato specifico su quanto potremmo risparmiare avviando a riciclo i nostri telefoni cellulari che abbiamo tutti guardate il dato questa fonte Commissione Europea un miliardo di euro di risparmi sui costi dei materiali di fabbricazione se questi oggetti di così largo consumo stessero davvero dentro una filiera di economia circolare si genera valore attraverso un cambiamento radicale del nostro modo di produrre e di mangiare il cibo il cibo ha un'altra grande questione che ha a che fare con la green economy in senso ampio questi sono i dati dell'agricoltura biologica anche questi dati aggiornati al 2017 sono diversi numeri taglio sui tempi per recuperare però vorrei soltanto richiamare la vostra attenzione sugli incrementi in doppia cifra è vero che quando l'universo di riferimento ha un piccolo gli incrementi possono essere come dire possono distogliere un po' distrarre dal cuore del problema ma 80 miliardi di dollari di fatturato come mercato globale per l'agricoltura biologica non è un numero proprio piccino i numeri del nostro paese sono numeri interessanti come fatturato 2,3 miliardi di euro questi numeri sono in crescita costante in doppia cifra cioè ogni anno crescono in doppia cifra e noi siamo qui spesso ad arrovellarci sul PIL che cresce dell'1,1,1,2 0,1,0,2 in più qui ci sono incrementi in doppia cifra che riguardano ovviamente anche il modo con cui si produce invece nelle nostre filiere agroalimentari perché qui si parte dal campo ma si arriva fino alla tavola quindi questo è un processo che interessa anche l'industria agroalimentare e grandi marchi non a caso stanno investendo nel nostro paese proprio nelle nuove filiere dell'agricoltura biologica si generano fatturati nuovi attraverso un modo diverso di muoverci i beni il cibo come ci muoviamo parliamo di funzioni vitali che riguardano la nostra quotidianità estrarre valore generare valore nuovo attraverso una diversa mobilità quelli sono i numeri primi del cicloturismo in Europa come volumi di fatturato il secondo esempio è un esempio che cito spesso perché ha a che fare con una questione apparentemente molto piccola ma in realtà molto significativa è che cioè quella del ripensamento delle infrastrutture quando queste infrastrutture non hanno più una funzione aderente all'epoca in cui erano state concepite quindi reti ferroviarie vecchie che vengono dismesse perché non ci sono più flussi di persone di popolazioni che si muovono per utilizzarle che diventano però reti ferroviarie recuperate e destinate al turismo è quello che è accaduto in Gran Bretagna guardate i numeri 850 km di reti ferroviarie che invece di essere smantellate e portate a sedime vengono rigenerate e destinate ad un'altra attività 7,7 milioni di visitatori 350 milioni di euro di fatturato che sarebbe semplicemente non esistito quindi non è stato estratto valore come diceva Magatti è stato generato valore nuovo ma la cosa interessante non è soltanto quella dei 2 mila dipendenti creano lavoro i 20 mila volontari si è accennato anche prima all'idea della comunità al fatto che questi processi di innovazione economica debbono anche essere capaci di saldare e di legare le comunità i territori perché uno fa il volontario per rigenerare una rete ferroviaria abbandonata? qual è la ragione per cui spende il proprio tempo per esserci? perché magari quella rete ferroviaria quelle stazioni ferroviarie parlano della terra dei suoi genitori ridanno una speranza alla sua memoria alla memoria della sua famiglia e impediscono che quei luoghi vengano abbandonati l'amore e la cura per il territorio il terzo dato è relativo alla cosiddetta economia sharing car sharing bike sharing e quant'altro anche qui dati e numeri in crescita potrebbero crescere anche di più quelli del bike sharing se ci fosse un po' più di civiltà nell'utilizzo da parte dei cittadini un'altra grande filiera di generazione di nuovo valore di nuovo lavoro è quella legata alle energie rinnovabili qui ho preso i dati ultimi disponibili del GSE a me interessa soltanto sottolinearvi l'ultimo numero e cioè che la quasi totalità dei 44 mila impianti fotovoltaici installati in Italia nel 2016 in una stazione in cui gli incentivi per il fotovoltaico sono stati sostanzialmente cancellati è di piccola taglia questo significa che si stanno moltiplicando le installazioni di impianti fotovoltaici per unità abitative questo sta rendendo possibile e l'Unione Europea sta approvando una direttiva che va esattamente in questa direzione la nascita di una nuova figura di prosumer cioè di produttore e consumatore di energia da fonti rinnovabili grazie alla possibilità di distribuire questa energia su reti torniamo al blockchain al trust su reti su blockchain energetiche e quindi non legata alle transazioni economiche ma ai flussi di energia oggi impossibili nel nostro paese per vincoli legislativi che porteranno in un futuro non lontanissimo alla possibilità di liberarci di una modalità di produzione e trasmissione dell'energia vecchia dispersiva inefficiente anche dal punto di vista energetico che è quella della produzione centralizzata e della distribuzione in rete con i grandi reti di distribuzione dove tutti sanno che si perde tanta dell'energia che viene prodotta sono reti fortemente dispersive e fortemente inefficienti dal punto di vista energetico questo fenomeno è accompagnato ieri abbiamo sentito nella relazione sulla comunicazione civile lo scarto il gap che c'è ancora oggi in Italia soprattutto tra ESG e quindi tra responsabilità ambientale e sociale e finanza a livello internazionale in Europa in particolare non è così la situazione è diversa cioè gli investimenti quindi la disponibilità di risorse finanziarie che vanno verso queste nuove forme generative di economia ambientale e sociale è in crescita la fonte Erosif Erosif è l'associazione che tiene sotto monitoraggio questo tipo di investimenti in Europa vedete anche qui gli aumenti in doppia cifra ci sono sia disinvestimenti da settori controversi tabacco armi iponografia ho fatto piacere ieri nell'intervento che ha fatto il presidente dell'associazione degli investitori di chi si occupa di relazioni con gli investitori in Italia di autostrade ricordare come autostrade negli autogrill si vendessero anche riviste pornografiche un tempo il disinvestimento da questi settori controversi è molto consistente guardate il dato di crescita degli investimenti che vengono fatti selezionando emittenti a portafoglio secondo criteri di sostenibilità ambientale più 146% oppure dell'impact investing ne abbiamo anche parlato ci abbiamo anche ragionato come quint ampliamento cresciuti in maniera significativa addirittura qui al 385% che cosa può generare di nuovo anche buona economia ma ne parleremo anche in altre relazioni l'idea della rigenerazione di beni pubblici è stato detto più volte questi sono i dati relativi ai beni confiscati alle mafie alle stazioni ferroviarie impresenzate in Italia alle case cantoniere dell'ANAS agli immobili pubblici dismessi che possono essere oggetto di nuove attività economiche abbiamo degli ottimi esempi in Italia di spazi che vengono messi a disposizione spesso proprio di start up innovative possono essere beni quelli confiscati alle mafie ne abbiamo ascoltato con testimonianza diretta da Vincenzo Linarello possono diventare in alcuni territori strumenti straordinari che accompagnano favoriscono la nascita di imprese nuove di nuove imprese oltre che di nuove imprese sociali ovviamente oltre che di nuove attività associative è saltata mi fermo qui perché vedo che purtroppo dovevo aver copiato male una slide e quindi sono rimasto con le slide successive su cose che invece non vi volevo accennare volevo soltanto concludere questo mio intervento dandovi conto di che cosa sta accadendo sul green skill sulle competenze ambientali e sui green job allora il dato l'ho tratto da questa pubblicazione che è di Union Camere del 2017 il sistema Excelsior è quello che monitora il modo con cui le imprese cercano e acquisiscono nuovi contratti quindi fanno nuove assunzioni il campione ripeto Union Camere un programma di assunzione monitorato da parte di 1,3 milioni di imprese questo è il bacino d'utenza 4 milioni di contratti il 49,9% di queste imprese chiede in modo preponderante ai profili in entrata il possesso di competenze green vi ripeto il dato perché purtroppo nella slide non sono riuscito a salvare il file giusto si vede 4 milioni di contratti 1,3 milioni di imprese monitorate da Union Camere il 49,9% cerca profili in possesso di competenze green quali sono queste competenze green l'attitudine al risparmio energetico quindi la filiera del risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività aziendali è un gran numero simbola nel rapporto Green Italy che è stato pubblicato nei giorni scorsi ha stimato ha rilevato circa 3 milioni di nuovi posti di lavoro creati grazie alla Green Economy 3 milioni sempre in Union Camere parla di 474 mila nuove assunzioni nel 2018 legate alla Green Economy ci sono difficoltà sì e concludo le difficoltà che segnalano le imprese riguardano proprio la disponibilità di queste figure professionali sul mercato del lavoro italiano si faticano a trovare c'è un grande lavoro da fare figure professionali che abbiano queste caratteristiche dai dirigenti di azienda fino alle professioni non qualificate fino appunto all'artigiano al conduttore di impianti di macchinari fissi e immobili ecco se questo è vero intorno alle green skill alle competenze ambientali ai green job c'è una grande partita da giocare che ha a che fare con la formazione con la formazione e con la crescita di queste competenze grazie 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 a tutti